caro frate leone mi rivolgo a te voglio ringraziarti per la tua fraterna comprensione per tutte le parole che hanno scaldato i nostri passi mentre passavamo di città in città annunciando il vangelo di gesù nostro fratello ne abbiamo fatta di strada non intendo solo la via fatta di polvere chilometri ma anche il percorso che ci ha condotti a fidarci l'uno dell'altro sai devo confessarti che a merito tuo se oggi so cosa significa obbedire è una virtù che pochi amano pochi sono coloro che ne hanno compreso il segreto è il terrore di ogni frate perché obbedire è come morire consegnarsi nelle mani del superiore sembra voler dire smettere di pensare di volere di desiderare smettere di essere no no frate leone noi sappiamo bene che obbedire non è tutto questo e sappiamo che il signore ci ha fatti per la libertà per la gioia e noi di gioie ne abbiamo sperimentate tante nel nostro cammino anche di bastonate se è per questo ricordi quella sera d'inverno tornavamo sotto una tormenta di neve da perugia verso assisi dopo aver ripetutamente bussato alla porta del convento il frate portinaio non ci ha riconosciuti e ci ha allontanate in malo modo cosa ci siamo detti in quell'occasione coraggio frate leone tu scrivi che questa è perfetta letizia sì leone questa è la vera gioia colei che è sorella della perfetta carità essa nasce dall'ascolto quanto ascolto abbiamo costruito prima di fidarci l'uno dell'altro obbedienza ab audire dal latino mettersi in ascolto conoscere veramente il fratello e non temere nulla di lui quando non c'è ascolto si fatica a riconoscere l'altro al punto che lo si scambia per un estraneo un nemico tu leone sei stato mio consigliere mio confessore le tue mani consacrate hanno accolto i miei pentimenti ed io caro leone pecorella del signore sono e sarò sempre per te come una madre ed io ti dico che tutte le cose che ti ho comandato più volte lungo la via in qualunque maniera ti sembra meglio di piacere al signore dio e di seguire le sue orme e la sua povertà fallo con la benedizione del signore dio e con la mia obbedienza sì leone questa è la vera obbedienza assumersi la fatica della responsabilità della vita e realizzarle insieme ai fratelli fa questo e vivrai grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti